Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, siamo sicuri, siamo forti, siamo interi e noi dall'altra parte del cancello. Sono venuto qua dal Teatro Valle occupato perché appunto il presidio da Molina hanno organizzato un incontro sulla cultura come bene comune, un incontro tra spazi occupati, c'era il sale Dox con cui poi in estate avevamo occupato il Teatro Marinoni e siamo venuti qua a portare la nostra esperienza di quello che stiamo facendo al Valle. Il Valle siamo occupati dal 14 giugno, abbiamo liberato fondamentalmente uno spazio che stava andando dismesso e lo stiamo trasformando in un bene comune. Abbiamo scritto uno statuto con collaborazione anche di Rodottao con Mattei per trasformare l'istituzione del Teatro Valle in un bene comune. Quindi proprio istituzionalizzare il bene comune sarà un teatro a grossa partecipazione popolare, nel senso che la base è quella della partecipazione attiva della cittadinanza. Settimana prossima lanceremo la campagna per la fondazione, che sarà una fondazione ad azionariato popolare o meglio ad azionariato diffuso. Tutti possono diventare soci e appunto tutti possono diventare non proprietari ma sostenitori di questo bene comune. E come mai quindi stasera siete venuti qua? Qual è il contributo che ha lasciato il Teatro Valle qui al presidio dal Molina? Beh, abbiamo portato il nostro contributo con la nostra esperienza ma soprattutto perché crediamo che quello che sta succedendo al valle debba essere trasmesso, debba succedere in tutte le realtà italiane. Crediamo che veramente la cultura possa essere un modo per rilanciare il Paese, soprattutto occupando spazi culturali, occupando spazi in cui far vivere degli spazi di cultura, per rilanciare proprio un progetto politico nuovo che sia di forte partecipazione dal basso di cittadinanza per creare, per strutturare, per formare un processo costituente nuovo sui beni comuni. Cioè insomma che si crei una rete, il 16 giugno, il 16 dicembre a Catania è stato occupato uno spazio, il Teatro Coppola, a Palermo in questi giorni probabilmente si sta occupando un altro spazio. Insomma crediamo che veramente sia bisogno di fare rete, nel senso che se il valle rimane una cosa isolata per quanto bella, per quanto attraversata da migliaia di persone, di cittadini, di artisti eccetera, come dire serve a poco, deve essere un traino, deve essere un esempio, deve essere... e quindi speriamo che anche a Vicenza, insomma mi ha fatto molto piacere vedere il presidio Dan Molin ancora resistente, ancora presente, una partecipazione molto ampia di persone e soprattutto molto attivi, molto svegli, nel senso che si dice che l'Italia è un paese assonnato, insomma qua si è respirata un'altra aria. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, siamo sicuri, siamo forti, siamo interi e noi dall'altra parte del cancello.